Ciao ragazzi e benvenuti al mio canale, sono AggressiveSMR e dopo un bel po' di tempo direi faccio finalmente un video in italiano, spero ovviamente che questo video possa piacervi per favore scrivetemi nei commenti qualche idea per video in italiano perché onestamente non ne ho, cioè in inglese potrei farne quanto ne volete, però in italiano non so perché però mi viene voglia di parlare e non saprei cosa dire, potrei parlare della giornata però le mie giornate sono piatti ovvero non succede niente a queste quindi non so cosa dire in queste, nei video in italiano, in ogni caso spero vi possa piacere e spero vi stiate bene, nel caso vi possa piacere e far vedere più video in italiano fatemelo sapere con un commento, userò anche questi guanti, sono i guanti della palestra e inoltre utilizzerò questo che avrete dovuto, avreste dovuto già aver visto il video in collaborazione con anche smr, avrete dovuto vedere se volessi diverso, che sarebbe, boh vabbè l'avete capito, non so come dirlo là, un momento, che fa un suono piuttosto ruido, non so, arriva, poi, sorry, e non so perché ho parlato in inglese, mi spiego, no? perciò solo questo che ho un video di complianza, devo dire che questo video fa un suono veramente Niente particolare, dal momento che il ruvido avvoresce, scratching, 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 scratching. In ogni caso, ditemi com'è stato, ditemi com'è stato, ditemi com'è stato. Potete usare anche questo. Rilassati, rilassati. Rilassati, 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 rilassati. Rilassati, rilassati. Dormi, dormi. Questo è il cavo per ricaricare il Tascam, anche se finora non si è ancora scaricato Quindi, o almeno non del tutto, comunque sì, parliamo un po' della giornata, mi sono svegliata, vado a scuola, torno e niente Mi sono messo a vedere un anime, si chiama Rising of the Shield Hero, è un anime particolarmente bello, mi sono visto Dieci episodi, in nemmeno quattro ore, quindi Sì, è particolarmente bello In ogni caso potremmo installare un po' e potremmo preparare un contenuto come potrebbe essere quello di parlare di determinati argomenti, magari una volta a settimana Fai fare la copertina Cotone, sono linea oro, cotone, idrofilo, idrofilo Dopo dovrò andare a scuola guida Con chi mi sgoccia particolarmente direi anche Non è da l'ora di prendere l'auto, peraltro perché voglio smetterla di andare ogni singolo giorno L'auto non è che mi interessi più di tanto, però avere l'auto mi garantisce una certa sicurezza O almeno credo Con chi mi povito Che! 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 ti rilassi ti rilassi ti rilassi ora voglio dormire ho avuto una giornata particolarmente pesante pesante hai bisogno di rilassare hai bisogno di dormire sei fantastico non permettermene solo di dire che tu non lo sei ho avuto una cosa di brutto ovviamente nel caso te l'abbia fatta bene verrà meglio sentirtela sentirtela prima che possa essere prima che sia troppo tardi 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 litigate con qualcuno di fare pace 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 parlaci fate pace tutti voi meritati di rilassarvi rilassarvi tutti voi tutti voi tutti tutti Tutututututututu Spero ovviamente che questo video vi stia piacendo Spero ovviamente che questo video vi stia piacendo Quindi se ti è piaciuto per favore fammelo capire Se sei italiano commenta qui sotto almeno così che io possa capire Quanti italiani guardano i miei video Sembrano essere tanti però chi lo sa In ogni caso io ne farò altri Questa settimana credo di farne altri due Forse non lo so Fatemi sapere se mi piace Se dovessi interessarvi Vedere più video in italiano In ogni caso Ciao ragazzi